Qual è il miglior paese per prendere un visto di residenza nel Southeast Asia? Oggi si parla tantissimo di Dubai, perché è obiettivamente uno dei paesi più semplici dove insediarsi e prendere un visto di residenza. Permanente è più complicato, temporaneo, per lo meno per dieci anni è piuttosto semplice. Ma quali sono le alternative a Dubai e qual è il paese all'interno del Southeast Asia che ti conviene prendere in considerazione se ti interessa chiaramente l'Asia come territorio? Scoprilo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliaratella, da oltre vent'anni mi occupo di pianificazione fiscale, protezione patrimoniale e relocation plan per imprenditori e nomadi digitali e non. Oggi nella splendida cornice di Hong Kong, siamo nella parte continentale, lì vediamo un'isola di Hong Kong, andiamo a parlare di visti di residenza. Perché molti di voi mi chiedono quanto è facile o non è facile prendere un visto di residenza a Hong Kong come persona fisica? Ebbene è obiettivamente complicato, però io credo che è giusto conoscere il proprio nemico. Quindi se il vostro obiettivo, se il tuo obiettivo è quello di trovare una residenza stabile o temporanea all'interno del Southeast Asia, dobbiamo andare a ragionare su tutte le possibilità, le opportunità sul piatto, perché molto spesso si parte da Dubai e si fa molto molto bene, direi, perché è il più semplice oggi da ottenere, fondamentalmente basta pagare sotto 6 e chiaramente viverci davvero, attenzione. Mentre il più elastico e anche più economico è il resto del Southeast Asia. Abbiamo già parlato in video precedenti, quando mi trovavo a Singapore e quando mi trovavo in Malesia, dei visti di residenza che sono piuttosto complicati da ottenere, sia per quanto riguarda Singapore sia per quanto riguarda la Malesia. Più che altro sono molto expensive, sono piuttosto cari e quindi secondo me è giusto gettare l'occhio su altre tre giurisdizioni. Ok, partiamo da quella che obiettivamente, non voglio dire che è impossibile, ma quasi, che è esattamente quella di Hong Kong. Esistono tutta una serie di visti, anche qui, come in tutti gli altri paesi del Sud-Est asiatico, diciamo, sono delle employment visa, nel senso che se si è sponsorizzati da una company locale, allora tutto diventa più semplice, burocraticamente articolato, ma piuttosto semplice, soprattutto se si lavora nel mondo della finanza, dove qui chiaramente fa da padrone in tutto il Sud-Est Asia, qui e a Singapore. Diverso e più complicato è ottenere un investor o entrepreneurship visa, che Hong Kong mette a disposizione solo di chi chiaramente investe un certo ammontare di capitale all'interno della giurisdizione, quindi è un po' come negli Stati Uniti quando vado a chiedere un E2, no? Cioè un visto di residenza negli Stati Uniti. Devo fare un investimento, cioè devo creare una società, dare impiego a dei dipendenti, pagare le tasse sul loro salario, sviluppare un business sostenibile, ragionevolmente produttivo e allora posso andare a fare l'application. Quindi per chi è interessato unicamente a una flessibilità personale elevata e a utilizzare Hong Kong invece come territorio offshore per la sua tassazione territoriale, evidentemente non andrei a guardare a Hong Kong per un visto di residenza. Ma andrei a guardare a due grandi alternative, ce n'è anche una terza, ma te la dico soltanto se clicchi like e rimani aggiornato alle notifiche del canale, perché saranno video girati in altri territori, non oggi. E allora io andrei a considerare o la Thailandia oppure l'Indonesia. Vediamo l'Indonesia che cosa prevede. L'Indonesia, in particolare Bali, che è il centro per eccellenza di nomadi digitali, oggi ha diverse possibilità in termini di visa. Intanto mi dà un visto di soggiorno temporaneo per lavoro o per studio che può essere valido fino a un anno. Mi dà anche la possibilità di optare per un permesso di soggiorno familiare o un visto sponsorizzato dal coniuge, che è valido fino a due anni, ma questo è il caso diciamo di chi sposa una local o un local, evidentemente. Vanta tra l'altro però anche un permesso di soggiorno per investitori, richiede però un investimento in un'impresa locale e questo visto anche è valido fino a due anni. E poi l'ultima visa, anche particolarmente interessante, è il secondo visa, che ricalca un po' quello di Singapore, anzi ti direi più quello di Kuala Lumpur della Madesia, perché prevede un investimento minimo di 130.000 dollari ed ha poi una validità però di 10 anni, quindi è molto interessante. Inoltre dopo tre anni di residenza in Indonesia si può anche fare l'application per la residenza permanente, diversamente detta ITAP. L'altro paese molto interessante a cui io darei un occhio è quello della Thailandia. È vero che molti fino ad oggi cercano di utilizzare la Thailandia entrando con degli student visa o con dei visa legati diciamo alle arti marziali, alle scuole di arti marziali o alle scuole di lingua, che sono di visa chiaramente permanenti, che rispetto alla turistica che ti dà 90 giorni, tirando fino a 12 mesi di permanenza. È altrettanto vero che però la Thailandia oggi offre un'opportunità a tutti coloro che magari vogliono eleggere Dubai come centro dei loro interessi ma non hanno voglia, tempo o facoltà di risiedere 12 mesi. Quindi se non si guarda l'Indonesia, che è più semplice, va benissimo anche la Thailandia. La Thailandia tra tutte offre oggi la cosiddetta Elite Visa. Il nome ufficiale della Elite Visa in realtà è Thailand Privilege Card che prevede quattro opzioni, tutte interessanti e diciamo a seconda del vostro portafogli potete comprare un visa che va dai 5 ai 20 anni di permanenza. Se sono quattro pacchetti, esiste il gold che ti dà 5 anni e costa intorno l'equivalente di 25.000 US Dollar. Esiste il platinum che ti dà la possibilità di permanere fino a 10 anni e costa all'incirca l'equivalente di 42.000 US Dollar. Esiste il platinum che ti dà la possibilità di permanere 15 anni con un investimento di circa 70.000 Dollari. L'ultima invece è la cosiddetta Reserve Card che ti chiede un investimento di circa 140k USD però ti dà la possibilità di permanere per ben 20 anni. La Thai Elite Visa o Privilege Card che dir si voglia è molto interessante perché ti dà la possibilità di entrare e uscire dal paese a tuo piacimento e anche di entrare all'interno degli altri paesi del sud-est asiatico con una certa facilità o comunque dei controlli più agevolati a parte il fatto che ti vengono a prendere con la limousine in aeroporto quando rientri a Bangkok o somewhere else all'interno della Thailandia. Quindi il discorso è esistono visti per tutti e per tutte le tasche. Di nuovo si tratta di burocrazia spesso in lingua locale che per esperirla è necessario rivolgersi a professionisti. Soprattutto è importante capire cosa fa al caso tuo e cosa veramente ti interessa. Quindi pianifichiamo sempre a breve, a medio e a lungo termine prima di fare una scelta. Sono Luca Taglialatela, da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e di vestiti di residenza. Se sei interessato a penetrare il mercato del sud-est asiatico o a diventare un nomade digitale e sei alla ricerca della visa migliore per te o per la tua famiglia allora clicca il link in descrizione e prenota una consulenza con il sottoscritto con un membro esperto del mio team. Spero che questo video ti sia piaciuto, noi ci rivediamo nel prossimo.